Ciao ragazzi, come state? Come ogni anno diamo inizio alla nuova stagione Fix Fit Speriamo abbiate passato una bellissima estate, vi siete rilassati, vi siete abbronzati Noi ci siamo un po' abbronzati, ma speriamo, viste le temperature che stanno reggendo continui l'estate ancora per qualche settimana, giusto? Non sarebbe male, non sarebbe male Siete pronti per ripartire con una nuova stagione fitness? Noi ragazzi siamo sempre qui pronti a riprendere la pubblicazione con 5 nuovi video a settimana 5 nuovi workout Anche quest'anno abbiamo una bellissima novità Ogni anno rendiamo i nostri programmi di allenamento sul diario Fix Fit sempre più completi e sempre più efficaci In questa stagione realizzeremo versioni aggiuntive di tutti i programmi Fino ad ora abbiamo sempre aggiornato tutti i programmi con nuovi workout Da quest'anno al posto di sostituire gli allenamenti creeremo nuove versioni dello stesso programma Così chi vorrà potrà proseguire lo stesso programma mantenendo lo stesso livello di difficoltà Questa novità arriva anche grazie alle vostre richieste Molti di voi vorrebbero continuare il programma per più di 12 settimane Senza cambiare livello e senza dover riniziare il programma Quando pubblicheremo la versione 2 avrete la possibilità di continuare il programma appena terminato con nuovi workout Esatto, inoltre in questa stagione uscirà anche un nuovo programma di yoga Un nuovo programma ultimate e i nuovi workout superton miei Con pesetti e tecniche di allenamento che vanno a lavorare maggiormente sulla muscolatura Abbiamo anche altre novità su cui stiamo lavorando Ma preferiamo mostrarve una alla volta man mano che avremo date più certe A breve uscirà anche un video dedicato alla scelta del primo programma di allenamento Ora sono davvero tanti e un bel video di orientamento è diventato davvero indispensabile Bene ragazzi, noi siamo carichissimi per iniziare la nuova stagione alla grande Vi mandiamo un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo workout E vamos! Ciao!